Per i morti? La macchina che è brava Ma poi cosa vuoi comprato? E la babbi è la macchina belli belli mia ma E l'amma cosa ti regala per i morti? La macchina 2 macchine sempre macchine e per il tuo compleanno? 2.000 miei compleanno cosa ti regala l'amma per il tuo compleanno? Dalla zia Cam cosa mi regali per i morti? E cosa mi regalato? Anche la morta, anche la spada, la spada, questo è maschetto, e Chiara cosa ti regala? Cosa ti regala Chiara? E la nonna Giovanna cosa ti regala? E la nonna Giovanna? Che ti dice a nonna? E che ti dice? Cosa ti dice? Guarda ceccemebaccina la nonna Un titolo Un titolo Un titolo E allora che ti dice a nonna Giovanna? Dovevo andare E cosa? Non lo so Un titolo E non lo so E non lo so Momma E chi vuoi? Chi ama di più di tutti Villa, saluto a tutti, buonanotte